Biscotti gelato con tre ingredienti, da avere sempre in freezer per ogni occasione, perfetti con qualsiasi tipo di biscotto. Monta la panna che deve essere ben fredda. Aggiungi il latte condensato che serve a non far indurire troppo il gelato. Incorpora con una spatola e trasferisci in una sac a poche. Se facesse troppo caldo e il composto fosse troppo molle, metti in freezer fino a che non avrà raggiunto la consistenza adatta. Non te lo dimenticare in freezer, altrimenti non potrai usarlo per la ricetta, ma avrai comunque un gelato da mangiare col cucchiaino. Farcisci i biscotti che hai scelto, chiudi e livella ai lati. Copri e fai riposare in freezer per 5-6 ore. A questo punto puoi gustarli semplici o passati nel cioccolato fuso di coperti di nocciole. Seguimi per altre ricette facili e sfiziose.